Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video o in questa nuova live, dipende da voi da dove lo state guardando Allora, oggi parliamo un po' di Belora perché mi sono arrivate domande in merito, in privato su Instagram, nei commenti di Youtube E io vi vorrei parlare un po' di chi è, che cosa fa e varie cose Prima di tutto, forse di between, between Allora, Belora ha anche un sito che è stato creato da me, Rifir Gabri Ed è un content creator che porta principalmente Fortnite ma che prima andava in live su Twitch, ora va in live anche su TikTok Solamente su TikTok a causa di problemi con Twitch ma in maniera legale Cioè solamente per pagamenti di cui ora non si traripete ma semplicemente non lo paga da 5 mesi, da più di 5 mesi Ha fatto 5 mesi di live in cui non è stato pagato quindi sicuramente sono 7-8 mesi da cui non riceve pagamenti su Twitch anche avendo raggiunto la soglia di 50 dollari E avendo superato anche 100 se proprio così lo vogliamo mettere Allora, il sito di Belora 9902 è stato creato con GoalSite Già ne abbiamo parlato varie volte Allora, ti chiamo il benvenuto Live su piattaforma Twitch Ora, lo modifico Dieta in diretta con voi Twitch e TikTok Lo vedete pubblica Se ora aggiorno la pagina Mi uscirà Aggiornato Eccolo qua No, bugia Penso che sia Eccolo qua Il tempo che arriva i server e che venga aggiornato Questa è il logo La forza di canale Un tema community Concebbero noi non esurvene No shop Abbiamo qualche vantaggio? Sì Allora Se fate una sciopata qualsiasi Può essere sia in euro che in bbac Potrebbe essere 200 vbac Come può anche essere 5000 vbac 8000 vbac Non interessa a nessuno Avete la possibilità di fare un giro di ruota Dove il giro di ruota ha una percentuale del 5% di vincita Oppure fare una partita con Belora 9902 Indettamente su forti Da scelere 1v1 Varie cose Fatta Royale Classificata Ci sono diversi obiettivi del canale Parto nel Twitch che è un po' stato trascurato Per quello Questi primi due obiettivi Lasciamoli un postale al loro posto 4.000 utenti su Telegram Stiamo provando a farli Anche perché Ora per il giro di ruota Di cui vi parlerò dopo In maniera dettagliata Quando vediamo il guide del canale Sapete cosa accadrà Poi 130.000 follower su Instagram Questi vengono aggiornati Appena un tempo Vedo Ora non lo so Può essere che quando sto facendo il video Sono già stati raggiunti E quindi potrete vedere Voi quando lo vedete 140 Quindi non si sa 5.000 follower su TikTok E mi sa che Ancora non li ha raggiunti Almeno questi Poi 150.000 follower su Twitch E' un po' più difficile Che li raggiungi Cioè Proprio per lo stesso motivo Che un po' è stato trascurato Poi Telegram Questi sono più facili Cioè 20.000 mini giochi E community Dopo metterò anche Un altro Chi che ne so Un migliore in totale Anche perché Cioè si fa Per le domande che fanno Questi sono gli obiettivi raggiunti Poi ci sono dei regali Che La maggior parte Che ho effettuato io Che possono essere Che ne so Word art Se proprio voglio mettere Posso mettere Quelli di Sara Chi ha fatto L'emoticon Ah E devo togli anche Lì mi sa Dallo staff E aggiungi un'altra persona Anzi Oppure Tolgo la chat Non lo so Devo vedere Se togliere Questo Questo qua Questa sezione Dopo vediamo E questo è un altro Word art Un bello Poi c'è un video Youtube Che sta nel mio canale Youtube Quindi lo potete vedere Senza alcun problema Non c'è musica copia Di quindi tranquilli Perché c'è il logo Di bellora In una maniera Più dettagliata Ora Non voglio stare qua Un'infinità di tempo A vederli Che un minuto E cinquanta Un assai Ti venti Questo video Esce lunghissimo Se non mette due Per Per quello Il video Mi c'è Due minuti Dura circa Un minuto Anche meno Perché sono Due e cinquanta Una e cinquanta Scusate Guardate Questo Per esempio Sembra che Il suo logo E' stato pubblicato Nel canale Di fotoroom Quindi Dell'app Originaria In realtà No Ok Quindi In una maniera Semplicissima Poi Social Ci sono I sui social Vedete Instagram Telegram Discord TikTok YouTube Twitch Waveful E Kik 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 E' un nuovo social Tipo Twitch Guardate E' tipo la piattaforma Proprio Esclusiva Di Twitch C'è Ci assomiglia Devo dire Non c'è Una grande differenza Che induce Un errore No Regali del canale Ora Sta scritto Ovviamente Tutti canale Perché Però comunque Vedete I regali Che sono già Stati fatti I regali Disponibili Poi si dice I regali Personali Vedete Questo Vi ha Intestituccio Aggiornato Perché Fia Stascrive I punti Canali Twitch Ora Che punti Canali Non ci sono Ok Poi Cripp E' stato Dalle Live Un attimo Un attimo Opposto E fin qua Ci siamo Stavo dicendo Sono disponibili Erano disponibili Anche con i punti Canale Ora Che Un attimo Un attimo No Crippi Estrati Dalle Live Se carica Sono un po' Tantine Quindi Non ve le posso Mai Far vedere Le tutte Altrimenti Se ne vanno 10 minuti Di video Solamente A parlare Di questo C'è Sono alcuni Del canale Di pelo O Alcuni Sono Del mio E' un po' Lento A carichè Perché Sono Video YouTube Vedete Se questo Dura 56 Secondi Già Se ne Va 5 Minuto E Quali Problema Dura 56 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi faccio vedere tutte. In modo che capite chi è. Tanto sono di 30 secondi anche meno quindi non cambia niente. Lette 5 secondi. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 14. 15. 15. 16. 16. 16. tutti insieme come i matti e le sue leggende non manca tanto quindi se siamo a tipo metà quindi questo è un po tantino però vi faccio vedere tanto ragazzi non mi cambia niente per i cinchi di video su hai vero questa mezz'ora grazie faccio pure in partita direi non ho sbagliato ecco 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 non poter tinere qui leggermente queste sono le ondia quando è facile non poter tinere qui potrei dire quasi sublime ragazzi ok questo è un altro c'è una messa più volte ok ok sono quasi finite le clip ok 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 Ora non so come mi sono iscritto Alla stessa canale però Spero che mi sentite bene Perché altrimenti ci sono problemi tecnici E quindi a me mi siano già i coglioni La prinzi La fidanzata stava qua Nella mappa però Non nella casa sua Forse ci sono dei creepers stava a casa sua Però non nessuno Questa è un'altra data Che vi faccio dire Questa ha anche il checkpoint Allora Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.